Vedendo la situazione di oggi, vedendo che a Sezzi ci sono molti stranieri, lei cosa ne pensa? Allora, mi vedessimo alle mie stesse condizioni che quando io sono partita in Belgio. Mi dispiace per loro, perché mentre che sono venuti di qua, vuol dire che di là c'era la povertà, come quando io sono partita in Belgio, c'era la povertà nella da me. Però anche loro devono rispettare le leggi, come io ho cercato di rispettare e di farmi accettare nel paese dove io sono andata. Perché io dico con tutta sincerità, io mi sono trovata bene, non rimpianco niente del Belgio, però devo dire anche che tante volte ho passato la testa.